Questa settimana andremo alla sede dell'Inps per chiedere che tutti gli italiani che aspettano da mesi la cassa integrazione lo abbiano finalmente questo assegno sul conto corrente e per chiedere che nel decreto che verrà in discussione in Parlamento non siano garantite solo nove settimane, perché pensate l'assurdità, il governo ha previsto nove settimane di cassa integrazione da qui fino a fine ottobre. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. È evidente che il calendario ne comprende 20 di settimane, 21 per l'esattezza. Quindi se il governo mette a bilancio nove settimane di cassa integrazione, ma le settimane saranno 21, vuol dire che milioni di lavoratori e milioni di imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, avranno settimane e settimane di nulla, di vuoto, di buco, di fame, di zero. E quindi andremo sotto la sede dell'Inps, il cui Presidente peraltro poche ore fa ha detto stiamo riempiendo gli italiani di soldi. Ma qua veramente qualcuno vuole fare arrabbiare gli italiani? Il dubbio mi sta venendo che non sia solo incapacità, improvvisazione, ma sia veramente una strategia per far arrabbiare la gente. Perché con milioni di italiani che da tre mesi non vedono un euro, che il Presidente dell'Inps, col sito bloccato, con gli hacker, con i malfunzionamenti, i 600 euro che non arrivano, i click day, esca dicendo stiamo riempiendo gli italiani di soldi. E poi è chiaro che la gente si arrabbia. Noi stiamo lavorando per evitare problemi, per risolvere i problemi. Però non si prendano in giro gli italiani. Non si dica loro che stanno ricevendo una quantità industriale di soldi e che verranno pedinati e controllati da 60 mila volontari per vedere se fanno quello che qualcuno ha deciso che si debba fare. No, quindi cassa integrazione veloce, soldi veri alle aziende, ma tutte le aziende, soprattutto alle piccole. Perché io vedo che ci si sta preoccupando al governo della Fiat, di Autogrill, di Autostrade, di Benetton. Ma il popolo delle partite IVA? Il popolo dei lavoratori autonomi? Il popolo dei liberi professionisti? Quelli insultati da Saviano vergognosamente l'altra sera da Fazio, silenzioso. Fazio che chiede a Saviano, ma chi segnala le persone in difficoltà alla camorra, alla malavita? E quell'altro frescone fa ai commercialisti. Ma porta rispetto sulla televisione pubblica, pagata da 60 milioni di contribuenti, commercialisti compresi, che stanno interpretando centinaia di pagine di decreti incomprensibili per guardarsi la televisione la sera sulla RAI e sentire Saviano da Fazio che dice che i commercialisti sono complici della malavita organizzata. C'è un limite. Gli italiani sono un popolo solidale, generoso, paziente, laborioso, da nord a sud, ma non abusiamo, non abusate della pazienza delle persone per bene.